Con la limitazione degli spostamenti, per i pusher reperire la droga e spacciarla al dettaglio diventa più difficoltoso. La strategia è quella di stoccare in casa grandi quantità e di movimentare più dosi con un solo spostamento. Strategia confermata dall'attività della Questura di Torino, che questa settimana ha arrestato 20 persone e sequestrato oltre 11 kg di sostanza superfacente. Tra questi, la squadra mobile lo scorso sabato ha arrestato una coppia di cittadini italiani di 44 e 52 anni che detenevano nel loro appartamento oltre 4 kg di marijuana e quasi 2 kg di cocaina. Poche ore prima era stato arrestato un 43enne in nazionalità marocchina, regolarmente residente in Italia da oltre 20 anni, a Moncalieri, dove l'uomo è proprietario di un negozio di telefonia. Gli agenti hanno rinvenuto, nelle pertinenze dell'allogio, 660 g di cocaina pura in pietra, in parte nascosta nelle scarpe da calcio del figlio 14enne e 15.000 euro in contanti. Poco dopo, i cani poliziotto Nike e Kira scovavano in uno degli armadi del negozio di telefonia ben 10 panetti di hashish e altri 115 g di cocaina pura, oltre un bilancino di precisione. L'esercizio commerciale è stato sottoposto a sequestro e l'uomo è arrestato. Gli altri arresti sono stati effettuati dai commissariati di zona e dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Complessivamente, le agenti di polizia hanno sequestrato oltre 30.000 euro ai pusher.